Musica Buon appetito, buon ragazzi, qua Vax, oggi è venuto, oggi sono la storia e sono qui a presentare questo nuovo video Che ragazzi, è un nuovo pack opening Infatti era da un po' di tempo che non mi portavo nessun pack, o meglio no Non mi portavo un pack opening appunto relativo all'ultimate in normale Ma perché ve lo porto proprio oggi? Perché ragazzi, guardate un po' che magicata ha fatto l'EA Ha rilasciato una squadra costituita da tutti quei giocatori che hanno giocato molto bene nella prima giornata del mondiale Quindi sarà costituita da quali giocatori? Da tutti quei giocatori in man of the match E ovviamente anche da quei giocatori a cui non è stata attribuita una carta in man of the match Ma che hanno comunque giocato lo stesso bene e a cui infatti è stata attribuita proprio per questo Una carta normale in forma, se possiamo così chiamarla E non so se l'avete notato, ma questo magico James Rodriguez Credo che sia il primo giocatore ad essere uscito in un'unica edizione di FIFA Quattro volte in forma, quindi mi sembrano super magicata Poi ragazzi, vi volevo dire un tre o quattro cose Allora, la prima è come sempre Se voi volete comprare Gatedy, vi ricordo di passare da FIFA Come stessi, il link lo trovate in descrizione Poi secondariamente vi volevo dire che sono abbastanza arrabbiato Perché allora come voi ben sapete Io in questi giorni, o meglio nei prossimi giorni Non ci sarò nel pomeriggio E poi forse qualche volta la sera Ciò cosa comporta? Comporta che devo fare i video al mattino Devo fare da appena svegliato qualche volta Oppure proprio di fretta prima di andare Questo è uno di quei casi E perché dico questo? Perché l'avevo fatto anche dopo essermi svegliato E avevo fatto un super pack opening da 500.000 crediti Ma cos'è successo? Che su 500.000 crediti, scusate Non ho trovato niente Ma niente del niente più totale Questa cosa mi ha fatto strassalire il crimine E ho detto No, eh no, eh no, io non voglio Non voglio editare un video dove proprio non trovo niente su 500.000 crediti Quindi ho detto Ma proviamo a farne un altro Poi un'altra cosa è che Oggi non ho la facecam Perché? Perché appunto prima l'avevo utilizzata Non ho trovato niente Cerchiamo di risfatare il tabù Che appunto con la facecam si trova qualcosa Non so se ho detto una cosa abbastanza sensata Ma comunque tranquilli E poi vi volevo come sempre ringraziare Per tutto il supporto che mi state dando Quindi detto questo Io direi anche di iniziare Col primo pacchetto Primo pacchetto Lampard Ma pensavo peggio Ma no Io già devo andare Se più mi mettete questi errori siete prudeli Quando il gioco si fa duro A trovare qualcosa nei pacchetti Ci pensa il signor Arturo Che con il suo cile Ha buttato fuori la Spagna e mondiali Ho visto che Un macello di voi Sono stati veramente contenti Per questa cosa Diciamo E non troviamo niente Che strano Madonna Tiagomotta Troviamo Tiagomotta Ma state scherzando Ma stiamo scherzando A cosa serve In uno stile di intesa base Cosa Cosa Ragazzi Dato che so che anche voi Volete farmi trovare qualcosa Nei pacchetti Mettete un bel mi piace adesso E se l'avete già messo Siete stramaggi Intanto vi racconto Una magicata che mi è successa Ieri Praticamente come voi ben sapete Io avevo vinto Il Wager Match di Muller E ho detto Ma aspettiamo due giorni Che solitamente I prezzi dei Iman of the match Si alzano Perché appunto Non si trompino i pacchetti Dani Alves Va bene Dai non male E cos'è successo E' successo che il giorno dopo Appunto è uscita questa squadra Costituita da tutti Iman of the match Che è tipo un Totm Imotm Una cosa Sembra tipo un insulto Perché sarebbe Team Costituito da tutti Gli international man of the match Una sorta di insulto Totm Imotm Imotm Vabbè Comunque Il suo prezzo si è abbassato Addirittura di 400.000 Crediti Quindi da 800 Che costava E' andato a 400 Che cosa Stratattica Qua troviamo qualcuno Ragazzi Qua troviamo qualcuno Me lo sento Ma che palle Questo errore Dai Oddio Il telefono Spare Ragazzi Con la chiamata Di mia nonna Non possiamo Non trovare nessuno E no E no E no E no Non ci posso Crediti Mi sa che è meglio Che inizi a commentare Tutti i pacchetti Perché non credo Di aver possibilità Di tagliare di questo video Dato che non trovo Mai nessuno Ma che palle Vediamo Alaba 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 ci porta Fortuna Dai Alaba Dai Alaba Salta 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 Sibalar Ivanovic Kail Questo è fortissimo Avete visto che gol Ha fatto Non so se sia lui Ma io ho sempre saputo Che questo si chiamasse Kail E che da un punto Sia quello Australiano Che ieri ha fatto Un gol Della madonna E saltiamo Speriamo Ma bravo Ha giocato così bene Bravo È stato Bravissimo Ma non c'è La carta moto Ancora lui Ancora lui Ne voglia lui Noi lo vogliamo Kail Che tipo tre anni fa Era difensore Due anni fa Centro campistore È attaccante Attaccante Dai 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 Un man of the match No Ho sentito delle chiavi Chi c'è Chi c'è Ladri uscite Andatevele Credo di averli fatti scappare Mio dio Dai che devo andare Muoviti C'è mia mamma Eh Ti ho salutato due volte Ultimi Due pacchetti Non so neanche se abbiamo I crediti per l'ultimo Ma fa niente Noi ci crediamo Ti prego Ti prego No Questo Non posso non caricarlo Almeno questo 650.000 crediti Hai niente Niente Spogli È la terza volta Che lo troviamo Spogli Ultimo pacchetto ragazzi Ultimo pacchetto Vi voglio stracarichi Quindi Dovete avere No Cioè Almeno per augurarmi Un po' di fortuna Nel prossimo pacchetto Vi voglio impostare A raggiungere i 4500 Mi piace Via con A Ultimo pacchetto Dai Dai Ultimo pacchetto Chiudiamo gli occhi Io chiudo Chi sta mettendo tanto È buono È buono come segnale È buono Chiudiamo gli occhi Chiudiamo gli occhi Closiamo Los ojos E troviamo Non ci posso Creep Chiudiamo 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 Chiudiamo